Uno dei problemi che ha coinvolto la vecchia giunta per molti mesi è stato risolto in breve tempo dalla nuova giunta. Si tratta della rimozione del reddito che giace sul fondo del porto e che crea anche intralcio alla navigazione. Sindaco, che cosa sta facendo l'amministrazione comunale? Sì, nel giro di un mese siamo riusciti a fare quello che per dieci mesi la vecchia amministrazione non è riuscita a fare, ovvero mettere in piedi tutte le operazioni per la rimozione del reddito nel porto di Fano. Un'immagine indecorosa che purtroppo da agosto dello scorso anno i fanesi e i turisti vedevano ogni giorno. Io ci tengo a ringraziare la Capitaneria, tutti gli uffici comunali perché è stato fatto un grande sforzo, un grande lavoro che partirà materialmente dal 22 luglio, quindi verrà interdetta tutta a Viale Adriatico e faremo un'operazione veramente importante. Però non potevo più vedere un'immagine del genere nel nostro porto, quindi è stata una delle priorità che abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione, quindi degli uffici, e nel giro di pochi giorni siamo riusciti a trovare le risorse e soprattutto metteremo in campo aziende importanti a livello locale e anche regionale per rimuovere il prima possibile reddito. Come avverrà l'operazione di rimozione del reddito, Assessore? Avverrà in quattro fasi. La prima sarà quella della messa in sicurezza sulla parte legata all'acqua, al mare, apponendo delle panne che delimiteranno la zona fra le operazioni e la zona libera dalle operazioni, questo per garantire un aspetto ambientale. Poi ci sarà una primissima fase di indagine attraverso l'utilizzo di una squadra di sommozzatori che all'inizio della prossima settimana faranno un sopralluogo e verificheranno effettivamente di quanto l'unità sia affondata nel nostro porto per capire poi come muoversi quando inizieranno effettivamente i lavori. Da qui, appunto, il 22 lunedì cominceranno le vere e proprie operazioni di rimozione. Verranno quindi posizionate due autogru su Viale Adriatico che verrà preventivamente chiuso al transito per tutti i quattro giorni dell'operazione. Ricordiamo, entro il 25 di luglio l'imbarcazione lì non ci sarà più. Quindi ci sarà l'interdizione di Viale Adriatico dal 22 al 25 H24 per permettere alle operazioni di avere una continuità. Se possiamo, lavoriamo di notte per poterlo portare via anche nel minor tempo possibile. Ci scuseranno i cittadini di questo, però i residenti avranno comunque la possibilità di arrivare alle proprie abitazioni senza problemi. Da qui, appunto, dicevamo due autogru che solleveranno l'imbarcazione da poppa e prua per permettere, appunto, di farle in totale sicurezza. Verranno installate delle pompe per togliere l'acqua all'interno dell'imbarcazione. Dopo la verifica di galleggiabilità, ovvero se ci sono delle falle verranno chiuse, la barca sarà in condizioni di galleggiamento. Interverrà un gommone che rimorcherà l'imbarcazione e l'unità fino al vecchio squero, dove verrà messa in sicurezza e verrà portata in secco. Da qui poi partirà una fase di accertamento tecnico-amministrativa. Ci saranno delle autorità che dovranno verificare la galleggiabilità o l'utilizzo futuro dell'imbarcazione. Però questa è la fase successiva a quella della rimozione. Verrà fatto poi un'azione di rivalsa nei confronti del proprietario per le spese che assorbirà il bilancio comunale? Sì, assolutamente. È lo stesso codice della navigazione che lo prevede. Qualora poi nella fase successiva il proprietario non si faccia carico delle spese, la normativa prevede che un domani si possa addirittura demolire. E con i proventi della demolizione, perché come ricordiamo alcuni oggetti hanno un valore positivo, questo potrebbe calmerare il prezzo della rimozione e quindi alleviare un pochino i costi delle casse del Comune. Però ricordiamo che una spesa di 85 mila euro, su una previsione iniziale che la precedente amministrazione dava di oltre 150 mila euro, credo che sia già un grande obiettivo raggiunto.